Abbiamo dei champ, magari, allora, ci può essere, me ne faccio venire in mente un paio, mi vengono in mente Gragas, Nautilus, un po' particolare che ogni tanto ci vuole, un Jarvan di qualche entità pure, ci potrebbe stare, anche qua ci sono diverse opzioni da fare. Poi, boh, sinceramente, Nautilus è carino, effettivamente, ed è fastidioso, e non è neanche troppo forte. Aspetta, aspetta! Vieni qua. Blitzcrank. Blitzcrank. Quella! È ferma, Blitz! Classic. Classic. Blitz ci ha messo un pochino, eh. Però poi si è svegliato il ragazzo. Ci ha messo un po', però si è svegliato il ragazzo. Ah, potrebbe essere che Diana è andata a rubare la mia giungla top, non lo so, mi sembrava così... Così addormentata che non ne sono convintissimo che l'abbia fatto. Senti come ride il Darius. Porca miseria. Malfight contro Vayne, spaccala. Ah, c'ha il grasp, sto tizio. E insomma. Non la runa migliore contro Vayne, devo essere onesto, Blitz. Una bella Comet qua. Godevi. A saperlo ti davo una mano. Uh, al pelo. Secondo te le una top o Trash crit funziona ancora? Trash crit sì, le una top, per favore no. Vi supplico. Vi supplico. Trash funziona sia crit che AP. Pure Trash AP non me lo chiede più nessuno. Non era male Trash AP, eh. Trash AP era molto carino, anzi. Vediamo se Diana mi ha rubato la top. No. O almeno questi non li ha rubati. Forse il red e basta. Eh sì, questo sì. Le rocce me l'avrà prese? No. Soltanto il red. Vabbè, worth. La prendiamo. Malfight sono con te. Malfight brother. Go. Go, 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 go. Vabbè. Fine. Ma è una bella guarda anche qua che non sia mai che si teletrasporti. La Vayne. Aspettiamo dieci gold per le scarpe. Diana Boz. Allora, Diana 20, io 32, ok. Quindi il granchio top non se l'è fatto, salvo imprevisti. 20 vuol dire 12, 12, 12, ok. 4, 12, sì, ok. Il granchio top c'è ancora. La panza che è amata. Già uno stand in Napoli, Crankdown, ti ho scopo, ho detto, ok, lo facciamo votare alla chat. I have my orders. Prisa! Diana. Oddio santo, bocelli che abbiamo come AD Carry. Quello è una kill facilissima. Vabbè. Meglio. Non sorrendano subito. No, Diana! Va che ti rubo la giungla se muori. Eh, vabbè, ti ruberò la giungla. Così impari. Secondo voi, no, non viene qua con sta vita. Allora, chat, c'è un po'... Buongiorno. Allora, chat, c'è un problema. No, fermi. Fermi tutti. C'è un problema, chat. Allora, dobbiamo cambiare pick. Perché siamo finiti in mezzo agli Iron Veri. Non possiamo continuare con questa linea, ragazzi. Serve cambiare pick. Servono i Gangplank AP. Adesso lo dico, tipo, prossimo game, i miei alleati fanno 0,20, però... È un rischio che dobbiamo prenderci. Servono dei pick un po' più stupide, ragazzi. Leona Top. Dio, madonna, sta Leona Top. Qual è il fetish per Leona Top? Non capisco perché vi piaccia. No, meme che siano divertenti, non Ione AP, ragazzi. Tipo GP AP è divertente. Ione AP non è divertente. Su Raka Top è divertente. Allora, qua non c'è un ciasso. Però c'è il Gromp. Buongiorno, sto rubando. Sì. Oddio. Ok, ora vado. Ma c'è una Diana che ha inseguito Malfight o sbaglio? Me lo son sognato. Me lo son sognato, ragazzi. Ho 3.000 gold. Merda, quanto si rifulla Darius su sti coi. Vediamo se Diana sta farmando il mio Red Buff. Noi così ci rientriamo se ho i crudelli in merito tuo. Non è vero. Siete voi che mi chiedete sempre ste robe? Non sono io a incentivarvi. Io so, qui a dirvi di scegliere Gangplank AP, ragazzi. Ecco, sapete l'issin support come lo gioco? L'issin support di Chris? Lo gioco AP. Oh, col maxi W. Benissimo. Nice. Crede come sempre come personaggio, noiosissimo. Dritta sulla E. Oddio Blitzcrank che pazzo. Eccomi, eccomi. Guardate le killate da soli, dritta. Vai Blitzcrank, vai! Presa! Rubo! Il drago lo voglio? Ma non lo so, ragazzi. Comunque la nostra botta è forte. Cioè, non eronicamente forte. 0-3-0. Lei sta flammando. C'è un cazzo qua. Vabbè, mi faccio il drago. In effetti è una perte di tempo a fare il drago tanto sorrendano. Comunque il fatto che mi consigli la YOMO il gioco è incredibile, secondo me. Vado, vado, vado! Buongiorno, sono di nuovo io. Eccoci. Come stiamo? Cazzo. Però lo slowate, eh. I miei alleati ci arriveranno. Vabbè. VEGAR! Oh, porca miseria. Porca miseria, ragazzi. Vabbè, ma sto team è fortissimo. Cioè. Io li ho aiutati, ma fino a un certo punto. Oh, qualcuno che muore. No, la seconda killtick! Psss. Mi alleno a cogliere e ho forgiato lo fo... Ah, ragazzi, non lo so. Una volta era più difficile giocare in iron che sul main. Lo split è... Allora... Il secondo split ha rovinato tutto. Cioè, tipo, a maggio era bellissimo... Fino a maggio è stato bellissimo giocare in iron. È arrivato lo split, game totalmente rovinati. O... Da game totalmente rovinati c'è stato un nuovo split adesso. All'improvviso i game sono iron legit di nuovo. Io non so cosa stia facendo Riot. Cioè. È tutto così a caso. Se riesco... No. Me la sono presa la scondastura. E' caldo. Un po' disrespect. Passare così in mezzo... In mezzo alla lane proprio. Qua. Vigar, cliccala! Cliccala, troia! Vigar, non è cliccato. Vabbè. Non importa. Via! No, mi ha preso! Speravo non ci arrivasse. Grazie, me ne lavo. Avete fatto un secondo game puoi dire con la BCS? In che senso un secondo game? Dici una seconda best... Cioè, abbiamo fatto tre partite contro il team di Malgax. Intendi se abbiamo fatto game con altri... con altra gente? Tutti che ridono. Tutti che ridono qua. Mamma mia. Comunque, ieri a Grittarela hai mandato al manicomio con Nasus. Nei volte si lamentava che non riusciva a farmare con Vex. Beh. Al massimo potrà lamentarsi di non riuscire a uccidermi con Vex ma non riuscire a farmare un po' da giraffe. Cioè, Malphite ha ucciso uno V2 di Ana e si stava quasi facendo anche questo. Diceva proprio di non riuscire a farmare. Oddio. Posso dire che se c'è una cosa che non posso impedirti di fare con Nasus a di mid è di farmare. Cioè... Non posso fisicamente impedirtelo. vediamo sto coso. arrivo, bastardi! guardiii! Oh. Vieni qua. Che palle ragazzi st'invisibilità di merdo. l'ho presa comunque alla fine. Eccola qua. Bravissimo. Un ottimo ghost. Dritta nel muro. un po' un po' pazzi, un po' pazzi dei nostri avversari dei nostri avversari. Devo dire. Oh! Sì, ma stanno morendo uno a uno, così. Eh, dottor Cosmos è azzirra. Norgana. Anzi. Pazzi? Follia pura? Let's go. Come executed. Ma che cazzo? Nooo! Nooo! Eh, ma non c'era la ultima Alphite non poteva far più di tanto. Ciao Rial. Blitzcrank 2500 gold. Vai, vai. Vediamo quanto tempo ci mette a farsi il drago quello. Dai, diamo una mano poverino sennò il game dura troppo. Già dura abbastanza. No. Te lo lascio finire e te lo meriti. Meriti l'onore di finire. Anche oggi la ragazza che aveva il contro non ne sta parlando. Lei deva... Merda, raga. C'è un danno psicologico non indifferente. Parlava ancora del Nasus. Traumatizzato. Eh, oh, bisogna sverginare. Prima o poi tutti devono essere sverginati dal mio Nasus. Cioè, non c'è modo proprio di fuggire. Non c'è modo di sfuggire. Comunque il mio team qua è fortissimo. Cosa più forte del team della BCS, ragazzi. Vai, Blitzcrank! Boom! Il fisting! No, non era peggio che si beccava Darius perché con Vex Darius è gestibile. Nasus è gestibile ma Nasus free farm. diciamo che decisamente peggio beccarsi Nasus contro quel champ. Merda. Che... Mamma mia, ragazzi. 8-0 VEGAR 5-1 ma... Mamma mia. Di solito ero nel team avversario fino... nello scorso split. PT, mid e jungle di feu. Diamo, Onora e... beh, qua sono stati così bravi che lo darò a tutti! Complimenti, ragazzi. Ve lo meritate. Allora, Barba, ricordami che hai messo nel pool. Ricordami champ. Serve un po' di pattume per il prossimo game, ragazzi. Buonasera, Rick.